Presidente, io in uno degli ultimi interventi ho sentito parlare di proposte disumane da parte nostra. Allora mi chiedo se voi tutti dite che il reato di clandestinità non è servito, ma altresì dite che l'immigrazione e i flussi migratori vanno gestiti, vanno regolamentati. Come volete fare la regolamentazione? Perché un conto è abolire il reato di clandestinità, un conto è non proporre nulla come state facendo voi. Avete intenzione di continuare a gestire l'immigrazione con le pratiche della CGL o con le cooperative che pagano 3,80 euro a queste persone? O avete intenzione di continuare a gestire l'immigrazione con gente che affitta le case da cinque posti letto e ci dormono in venti? E' così che avete intenzione di continuare a gestire l'immigrazione? Chi è disumano? Questa è la domanda che vi poniamo.